ciao ragazzi io sono francesco saviano di 3d skill up in questo video faremo una breve panoramica sulle preferences di blender e darò anche alcuni consigli su cosa fare per muoversi meglio nella 3d viewport impostando alcune opzioni presenti nelle preferences per aprire la finestra delle preferences andiamo in edit preferences si aprirà questo pop up dove a sinistra troveremo tutta una serie di schede suddivise per categorie mentre a destra abbiamo tutti i settaggi relativi a quella categoria vedremo quali sono alcuni dei settaggi più importanti delle preferences di blender iniziamo con la scheda interface dove troviamo tutte le opzioni relative all'interfaccia utente la maggior parte di queste opzioni riguardano come appaiono le cose in blender ad esempio una delle cose che possiamo fare è cambiare la risoluzione cambiare la risoluzione può essere utile ad esempio quando utilizziamo blender su schermi più piccoli possiamo ad esempio disabilitare lo splash screen con la finestra pop up che appare all'avvio di blender possiamo anche disabilitare i tooltips che sono questi utili suggerimenti vedete questi pop up che si aprono quando si va sopra con il mouse non consiglio di disabilitare i tooltips comunque è una delle cose che si può fare è anche possibile cambiare la lingua di blender attraverso la scheda translation non vi suggerisco tuttavia di cambiare la lingua perché capite bene che sarà molto più difficile quando stiamo cercando aiuto su ad esempio come far funzionare un qualcosa con blender o stiamo seguendo un tutorial perché quell'interfaccia sarà sicuramente in inglese invece può essere utile tradurre i tooltips nella lingua nella propria lingua quindi ad esempio qui selezione italiano solo per i suggerimenti vedete che i suggerimenti adesso sono praticamente tradotti e non tutte le lingue però sono o meglio non tutte le traduzioni sono complete e qui potete vedere quali lingue sono state completate quali sono in progresso e quali invece sono appena iniziate passiamo ora alla scheda teams qui sarà possibile cambiare colori e stili di finestre bottoni eccetera per ogni tipo di editor sarà anche possibile scegliere un preset tra questi fantastici elencati qui tra cui ad esempio c'è questo di maya c'è il blender light e eccetera e possiamo anche scaricare da internet scaricare e installare da internet preset di temi come vedete si possono modificare davvero tantissime cose giusto un esempio vi mostro come modificare il colore di selezione di un oggetto l'oggetto attivo in questo caso passerà andare qui nella 3d viewport alla voce active object cambiare il colore da arancione a quello che preferite ad esempio è importante considerare questa cosa però prima di fare qualsiasi modifica e disordinare un po tutto giustamente potete tranquillamente provare a fare le vostre modifiche impostare un vostro tema ad esempio c'è anche la possibilità di crearne uno proprio prendo qui il tasto più però dicevo prima di fare tutte queste modifiche è una buona idea disabilitare la funzione di auto salvataggio delle preference perché in questo modo ogni modifica che fate anche semplicemente per prova viene salvata quindi prima di modificare disabilitate auto save preference e se siete soddisfatti delle vostre modifiche allora praticamente andate a salvare le preference in ogni modo se invece volete tornare indietro basterà fare il revert delle preference salvate e caricherà e caricherà praticamente l'ultimo salvataggio effettuato oppure se volete completamente ripristinare basterà caricare la factory preferences nella scheda viewport sarà possibile modificare tutta una serie di impostazioni relative alla viewport come ad esempio la possibilità di mostrare o meno le informazioni qui relative all'oggetto in questo caso il nome che fa parte di questa collection e una cosa ad esempio è possibile fare è ingrandire il gizmo in questo modo vedete o anche aumentare la qualità delle texture nella viewport e altre cose di questo tipo poi abbiamo la scheda lights e qui sarà possibile personalizzare i matcap le anteprime di illuminazione e di ambiente abbiamo poi le schede editing ed animation che riguardano i diversi modi di lavorare con gli oggetti e le impostazioni relative all'animazione torneremo su queste schede se necessario visto che questa è una semplice panoramica sulle preferences di blender una scheda molto importante è quella degli addons e qui sarà possibile installare addons che offrono fantastiche funzionalità aggiuntive per portare blender alla massima potenza dedicherò un video interamente sugli addons e su quelli che non possono mancare nella vostra cassetta degli attrezzi se questo video vi sta piacendo mettete un bel like iscrivetevi al canale nella scheda input abbiamo due funzioni importanti da considerare che sono l'emulate numpad in questo caso attivandolo verrà emulato il numpad se la vostra tastiera non ha un numpad quindi verranno emulati i numeri che si trovano sopra le lettere della tastiera per numpad si intende il tastierino numerico e sarà anche possibile un'altra funzione importante emulare il terzo bottone il bottone centrale del mouse se ad esempio il vostro mouse non ha il bottone centrale in questo caso premendo la combinazione di tasti alt tasto sinistro verrà emulato il tasto centrale del mouse passiamo ora a navigation che è un'altra scheda importante infatti qui sarà possibile aggiustare tutta una serie di impostazioni relative alla navigazione e qui è utile considerare alcuni suggerimenti per attivare alcune funzioni che ci aiuteranno nella navigazione nella 3d viewport la prima è la funzione depth questa funzione attivandola ci permetterà di muoverci molto meglio nella 3d viewport consideriamo il caso in cui non è attiva guardate cosa succede allora se ad esempio io duplico questo oggetto e lo sposto qui se ad esempio adesso con il tasto centrale del mouse e shift mi muovo verso questo oggetto e provo a ruotare con il tasto centrale del mouse c'è un punto qui di rotazione un pivot qui e la rotazione avviene intorno a questo punto a questo punto ok benissimo se adesso io mi sposto faccio un pan con shift tasto centrale del mouse qui la rotazione praticamente avviene più o meno intorno a un punto a un pivot qui ok benissimo ma se adesso io provo ad esempio a zoomare in questa zona e faccio una rotazione la rotazione avviene ancora intorno a questo punto qui e non diciamo a dove ho zoomato vedete la rotazione avviene ancora con il punto il pivot che sta più o meno da da queste parti quindi per evitare questa situazione che diciamo è abbastanza scomoda possiamo attivare questa funzione depth in questo modo se io ad esempio mi sposto qui avrò il pivot in questo punto più o meno in questo punto qua e la rotazione avverrà in questo modo e se mi sposto da quest'altra parte qui praticamente la rotazione avviene diciamo dove mi sono spostato con il mouse ad esempio se clicco qui la rotazione avverrà qui se clicco qui la rotazione praticamente avverrà qui e quindi questo è molto più comodo che come era la situazione di prima un'altra funzione sicuramente utile da attivare è il zoom to mouse position e in questo caso lo zoom avverrà dove è posizionato il cursore del mouse vedete se ho il cursore qui lo zoom avverrà qui sposto il corso del qui lo zoom avverrà dove praticamente ho posizionato dove sto spostando il cursore e quindi io ho attivate queste due funzioni depth zoom to mouse position potete attivare anche la funzione orbit around selection che vi permetterà di fare la rotazione in base all'oggetto che avete selezionato io preferisco avere questo tipo di configurazione qua il depth attivo con zoom to mouse position poi abbiamo la scheda kmap dove è possibile cambiare alcune cose come ad esempio la possibilità di effettuare la selezione o con il tasto sinistro con il tasto destro del mouse cambiare la funzione del tasto spazio eccetera e in questa finestra è anche possibile andare a cambiare praticamente tutti quanti gli shortcut e se decidete di modificare gli shortcut è sicuramente una cosa da fare con molta attenzione perché inadvertitamente potreste sovrascrivere quelli presenti poi c'è la scheda system qui possiamo ad esempio attivare la tecnologia cuda per accelerare la gpu e selezionare sia la scheda grafica che il processore per il calcolo poi una cosa importante davvero importante da da cambiare sono yandu steps in questo caso sono settati anzi default penso siano settati una trentina e selezionate il numero massimo che è 256 per yandu steps in questo modo quando premere ctrl z potete tornare indietro o con ctrl alt 0 avanti di 256 volte e infine ci sono le schede save e load e file paths alle quali dedicherò un video separato quindi questo è tutto per quanto riguarda una breve panoramica sulle preferences di blender spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete un bel like iscrivetevi al canale grazie ragazzi alla prossima